Ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo appuntamento molto interessante con CMT Motor. A te Marco. Ciao Rosi, un buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti i telespettatori. Sono Marco Agostoni, direttore commerciale di CMT Motor. Oggi siamo qui per presentarvi un'opportunità di business per tutti coloro che vogliono realizzare il proprio sogno nel divenire un imprenditore indipendente di successo. Con CMT Motor esercitiamo l'attività nel settore delle due ruote. Siamo il network numero uno in Italia nell'intermediazione della compravendita di moto da privato a privato, con esposizione fisica della moto stessa, con migliaia di moto vendute all'anno e con più di 100.000 clienti soddisfatti. Oggi siamo alla ricerca di imprenditori su tutto il territorio nazionale per effettuare quindi nuove aperture. Il nostro network può contare già su una rete nazionale di oltre 60 centri, con un business rivelatosi vincente e soprattutto soddisfacente per i nostri clienti, sia per chi ha l'esigenza di vendere la propria moto e la vuole vendere direttamente a un privato, senza perdere tempo, evitando lo stress della gestione della vendita. In quanto CMT Motor, nei nostri centri, siamo in grado di procacciare il cliente e gestire a 360 gradi tutta la fase della gestione, quindi dalla vendita, compresi i passaggi di proprietà. E' soddisfacente, dicevo, anche per coloro invece che desiderano acquistare la propria moto direttamente da un privato, in quanto le moto acquisite tramite CMT Motor, pur essendo, ripeto, acquisite da privati, hanno la garanzia di un anno con la possibilità di estenderla a tre anni e possono essere pagate in comoderate. Abbiamo a disposizione inoltre migliaia di moto di privati da poter comodamente visionare senza limitazione di orario, in quanto sono visibili presso i nostri centri espositivi e anche sul nostro portale CMT Motor. Ecco, questi sono alcuni dei punti chiave che hanno reso il nostro business un business vincente ed è il motivo per cui stiamo effettuando una forte accelerazione di espansione sul mercato, visto la grande richiesta dei nostri servizi che fanno dalla nostra attività appunto un'attività sicura oltre che molto performante. Marco, ma servono delle competenze specifiche per aprire un vostro centro? No, guarda Rosi, non servono delle esperienze specifiche in quanto i nostri dealer sono seguiti dal nostro team sin dalla fase di start-up e anche nella fase della gestione, sia ordinaria che straordinaria e in modalità continua. Affanchiamo il nostro dealer quindi nella ricerca delle migliori location e garantiamo anche una zona di esclusiva. effettuiamo corsi di formazione che saranno in grado di far gestire al meglio l'attività e di far crescere il numero dei nostri clienti. Inoltre supportiamo i nostri dealer promuovendo la vendita delle moto anche con il nostro portale cmtmotor.com, è divenuto ormai un portale di riferimento per chi vuole acquisire o vendere la propria moto ed anche tramite i più importanti portali italiani quindi del settore. Quindi l'opportunità di esercitare un'attività con un supporto e una grande struttura alle spalle che mette in condizione di vantaggio commerciale ai nostri centri per un'attività serena, tranquilla e soprattutto, voglio dire, performante. Quindi tra i vari servizi che la nostra società va ad offrire e quindi la nostra struttura offre è quello anche del servizio di telemarketing dedicato che andiamo a sostenere quindi tutti i nostri dealer nell'acquisire quindi le moto dai privati che li affiancherà quindi nel quotidiano alla ricerca delle occasioni più interessanti da esporre all'interno dei nostri negozi. Marco ho saputo che alcuni vostri dealer stanno aprendo già altri punti vendita. Sì, diversi dealer hanno intrapreso nuove aperture e questo ci ripaga del duro lavoro svolto e che quotidianamente continuiamo a svolgere e soprattutto felici per chi ha creduto in cmtmotor in quanto si meritano giustamente un successo professionale. Siamo in forte espansione, stiamo cercando persone serie, motivate ed ambiziose con tanta voglia di lavorare e che desiderano entrare nel nostro network per avviare il loro centro cmtmotor nelle zone sul territorio nazionale ancora libere. Quindi Marco direi che sono molteplici le motivazioni per aprire un vostro centro. Certo, sono molte le motivazioni, oltretutto che essere interessanti e trasparenti. Innanzitutto per la struttura e i servizi di supporto appena citati, che permette loro di poter performare al meglio e non sentirsi mai soli nell'andare ad esercitare la loro attività. Poi lo riteniamo anche molto interessante per il basso investimento di apertura, che è di solo 21.000 euro e che in questo momento è ancora più conveniente in quanto si può usufruire di una promozione di soli 16.900 euro, di cui sono 8.000 per le fee di ingresso e 8.900 sono le pure spese di arredo, quindi del punto vendita, della fornitura degli accessori, caschi, abbigliamenti e quant'altro è disponibile per andare ad arredare il nostro centro. Al prezzo di una sola moto, incredibilmente, i nostri figliati potranno avviare la loro attività ed arrivare ad avere un loro centro espositivo CMT Motor pieno di moto ed il tutto con la convenienza di un'alta redditività, in quanto trattesi appunto un'attività di servizio. Dicevo poc'anzi anche trasparente, perché il nostro core business rientra nel mercato di più grande potenzialità in Italia, relativo al commercio delle due ruote. Per darvi due numeri che vi possono far rendere conto della grande potenzialità del nostro business e quindi della sicurezza per il futuro dei nostri affiliati e per coloro che vorranno aderire ad aprire un centro con noi, quindi con CMT Motor, vorrei farvi un paragone con quello che è il mercato delle moto nuove, dove in Italia, ad esempio nel 2018, sono state vendute circa 220.000 moto nuove, quindi di nuova immatricolazione, comprese le immatricolazioni relativi ai vericoli chilometri zeri, che quindi realmente non sono ancora veicoli stati venduti. Per quanto concerne il settore della compravendita tra privati, nel 2018 sono state vendute, oltre, attenzione al numero, 550.000 moto tra privati, per cui parliamo di un mercato che è addirittura quasi tre volte superiore il mercato del nuovo. Oltretutto dobbiamo sottolineare che siamo anche gli unici a lavorare quindi professionalmente in questo mercato e quindi i nostri affiliati potranno nella loro zona di esclusiva essere l'unico punto di riferimento per questo enorme mercato. Marco, per chiarire meglio l'attività, a chi potreste assomigliare come business esercitato? Rosi, diciamo a nessuno del settore, possiamo considerare la nostra attività innovativa e anche l'evoluzione di quella che ormai consideriamo la vecchia e passata modalità di compravendita di vuoto tra privati. C'è chi ci ha considerato coloro i quali che hanno completamente rivoluzionato il mercato dell'usato in Italia. In altre parole, se vogliamo trovare un'affinità, esercitiamo l'attività di intermediazione nel settore delle moto, come le agenzie immobiliari esercitano l'intermediazione nel settore immobiliare, con la differenza che CMT Motor ad oggi rappresenta l'unico network nel mondo delle due ruote professionale sul mercato. Per cui, a prescindere dalle mie parole, lascio a voi giudicare e analizzare quale è oggi la potenzialità del business di CMT Motor. Riassumendo, possiamo dire soprattutto a chi ci ascolta, a qualcuno di interessato che vuole divenire un imprenditore, che il business è di provato successo, sussiste quindi un'attività di supporto continuo della casa madre, quindi non sarete mai lasciati soli ad affrontare il mercato. C'è un basso investimento, un'alta redditività, questo è importante sottolinearlo, in quanto il core business trattasi di un business di servizio. Come abbiamo visto, vi ho appena anticipato, una grande potenzialità di mercato che quindi assicura il futuro della vostra attività e assenza di competitor. Quindi tutta una serie di caratteristiche che proprio rendono il nostro business un business di successo. Sì, io direi che ci sono veramente tutte le caratteristiche per rendere il vostro business vincente, perché comunque avete unito la garanzia di avere dei servizi con quello che è anche la ricerca dell'acquisto da parte dei privati, perché c'è comunque un po' la voglia di acquistare direttamente dal privato, voi garantite tutta una serie di servizi che il privato da solo non potrebbe dare, quindi offrite grande sicurezza a chi acquista la vostra moto. Infatti, come dicevo poc'anzi, abbiamo aperto una nuova strada commerciale, quindi possiamo affermare che avviare una nuova attività non è mai stato così facile redditizio, per cui se volete realizzare il vostro sogno e diventare un imprenditore di successo, aprite il vostro centro CMT Motor ed il tutto con un piccolo investimento ed in solo i 30 giorni diventerete imprenditori nel nostro network. Come si suol dire, a buon intenditore, poche parole. Se sei d'accordo, Rosy, direi di andare anche ad ascoltare qualcuno dei nostri affigliati. Andiamo. Ciao, sono Davide, il titolare del centro CMT Motor di Sesto San Giovanni. Sono al mio primo anno di apertura col mio centro e mi ritengo molto soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto, grazie anche al supporto che abbiamo dalla casa madre. Grazie a questa soddisfazione abbiamo deciso io e mia moglie di intraprendere una nuova avventura con un secondo centro che apriremo a breve a Monza. Inoltre, con la nuova apertura, il centro che gestirà mia moglie sarà supportato dall'aiuto di un dipendente che abbiamo preso come collaboratore. Grazie alle potenzialità del gruppo vedo un futuro molto prospero con questo nuovo tipo di attività, unendo la passione e il lavoro. Ciao, sono Massimo, un affiliato CMT Motor del centro di Vimodrone. Ho aperto a febbraio e nonostante sono aperto da poco tempo sono già soddisfatto della mia attività anche perché ad oggi posso ritenermi un imprenditore e ho fatto grandi passi avanti. Sono molto soddisfatto anche del servizio che offre CMT Motor, il sostegno che ci danno a tal punto che ho già in mente progetti futuri. Per cui se siete interessati per maggiori informazioni potete contattarci o al numero telefonico che vedete in sovrimpressione oppure entrando nel nostro portale cmtmotor.com alla pagina apriuncentro potrete compilare un form e sarete contattati da un nostro responsabile senza impegno nell'arco delle 24-48 ore. Grazie Marco e aspettiamo tante telefonate. Un saluto a te Rosi e a tutti i telespettatori.